I territori della Sabina sono divenuti durante i secoli di egemonia romana luogo di fuga dalla città verso la campagna. A testimoniare questo particolare fenomeno sono le numerose ville patrizie presenti in queste terre. A circa un chilometro da Montopoli, ma con accesso piagevole d'appoggio vilteto, troviamo i ruderi, detti casoni, appartenenti a quella che un tempo fu una villa romana, attribuita a Terenzio Varrone, erudito che ebbe da Cesare il compito di costituire la prima biblioteca della Repubblica Romana. I resti dimostrano come fosse posizionata in uno splendido punto che domina le valli del Tevere e del Farfa. Sembra che la villa fosse collegata da condutture idrauliche ai cosiddetti bagni di Lucilla, altra costruzione romana poco distante da Poggio Vilteto. La tradizione vuole che fu l'imperatrice Lucilla, figlia di Marco Aurelio, a volere il restauro dei bagni che da lei presero il nome. La tradizione vuole che fu l'imperata da Poggio Vilteto. La tradizione vuole che fu l'imperatrice finisata